C'è un cronoprogramma per realizzare le opere di urbanizzazione nell'area industriale di Casarzano, così come c'è una possibile soluzione per il mini ampliamento della zona industriale di Fosso Imperatore. L'accordo è stato raggiunto durante la riunione tra l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore e gli imprenditori. Al tavolo il sindaco Malio Torquato e i dirigenti comunali dell'area tecnica Antonio Fontanella e Gerardo Califano, Francesco Reinone e Giuseppe Zara, rappresentanti tecnici degli assegnatari. Dall'aggiornamento dell'attuale progettazione di ovviamente rendere esecutiva l'ultimo stadio della progettazione dei contratti per poi poter in questo senso risolvere in maniera definitiva quello che è l'attuale stallo derivante dal problema sostanzialmente ambientale. In questo ovviamente si sono tracciate le linee guida abbastanza chiare che definiscono tempi e modalità di esecuzione di queste opere e ovviamente si intravede come dire in questo senso una strada molto chiara e c'è da parte nostra un ottimismo in questo senso. Il Comune è stato assolutamente disponibile rispetto alle istanze che abbiamo prodotto, abbiamo ovviamente sul tavolo manifestato. È ovvio che tutto quello che emerge oggi da queste riunioni non sono più riunioni interlocutorie ma sono riunioni di carattere operativo perché si va nella vera e propria applicazione di un trono programma degli interventi e questo ovviamente ha dato un ospiratio di luce a noi imprenditori che vi ripeto sono ottimisti rispetto a questo che ovviamente è stato l'esilo dell'ultima riunione.